Nuova settimana, nuovo aggiornamento Fede, hanno aggiunto una granata che secondo me è spettacolare Te la proprio introduco veloce 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 Vai! Tiri la granata, sbalzi player, alleati o nemici Puoi fare cosi di cosa Bellissimo Vedi uno, magari è lì, davanti a una montagna, tiri la granata e vola via E sto descrivendo questa proprio cosa precisa perché è successo qualche secondo fa Io ho tirato una granata, la prima volta che l'abbiamo trovata Ho mancato il tipo perché ha un raggio molto piccolo E il tipo non è caduto dalla montagna come io sognavo Ed è stato un fail E c'è fatto una figuraccia, per fortuna che nessuno lo vede Non la vedrete, però sapete che l'ho fatta, ci tenevo a farvelo sapere Comunque sembra un oggetto molto interessante Ho visto un piccolo video, uno spezzone che hanno fatto proprio gli sviluppatori al gioco E fanno vedere come ad esempio si potrebbe sfruttare Per far volare più in alto uno dei propri alleati che dall'alto spara tipo i player avversari Insomma, ci sono delle meccaniche interessanti che si possono fare con questa granata E ovviamente dobbiamo andare a cercarla È in rarità blu, si può trovare soltanto nelle ceste e negli airdrop Esatto Quindi tendenzialmente, essendo rarità blu, dovrebbe essere facile da trovare Ma noi abbiamo aperto 50 ceste e le abbiamo trovate una sola volta da un cadavere Quindi non so bene perché Quindi neanche da una ceste Ma sembra rara quanto la bomba ballerina per intenderci Che comunque si trova ogni tanto ma non troppo Farevi storie player? No, sai Oh, scherzi? È il nostro compleanno? A meno che non arrivino dopo perché ogni tanto queste cose le fanno Però per ora no Ma ce l'ha fatto un regalo Vabbè, io mi butto Ce l'ha fatto un bellissimo regalo Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Apriamo la prima ceste Occhi aperti però, eh Non prenderlo per buono Che magari c'è qualcuno che arriva ritardo a piedi Ok, ok, ok Infatti per sicuramente mettiamo subito i scillini Esatto Volevo dire Altre cose che hanno aggiunto Hanno aggiunto una nuova location dedicata al capodanno cinese Che si trova vicino a Pinacoli Pendenti E che nel caso andiamo a vedere in un altro video Perché ci sono due ceste da prendere anche lì Che non è male Poi hanno modificato alcune cose interessanti Ad esempio i revolver da ora in poi danno i colpi dell'M16 Esatto Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che voi trovate molti più colpi in giro per l'M16 E questo è ottimo Dato che di revolver per terra ce ne sono tante Questa qua secondo me è una gran figata Dato che a fine sappiamo benissimo tutti Che è l'arma più importante In linea generale si cercano sempre i colpi di quella tutto il tempo Quindi è davvero molto bello In tutto questo farei un botto di shield Ho il fucile a pompa con lo forte verde Ho l'M16 blu Ok Sono felicissimo Qua c'è un altro'M16 verde E secondo me adesso ti trovo la bomba Lasciamolo Sì lo so che te lo lascio Infatti l'ho lasciato lì Allora per ora io ho trovato due balestre Se proprio devo dirla tutta Un fucile a pompa Una pistola epica E boh vabbè Un po' triste Hai finito di dire le tue tristezze Ok meno male Perché erano davvero tristi Te lo dico Lo so Qua cosa abbiamo di bello? Ci sto trovando un quantitativo di shield Impressionante A questo punto vado a riprendere Anche io Anche io li ho trovati Io adesso ho 50 Perché ho tirato gli shieldini Ok Però ho altri 4 shield da 50 Wow Cioè Una granata al posto dello shield L'accetto eh Non si offende nessuno Ok che voglio essere protetto Ma non c'è bisogno di averne così tanti Dai un po' di fortuna E fucile da cechino Beh la fortuna c'è stata Non quella che volevo Ma la fortuna c'è stata Certo certo Comunque abbiamo un bel fucile Da ora in poi Allora qua un pochino di materiali Questo non lo posso fare Feria perché è sospirato Che succede Dimmi un po' Perché non trovo una bella arma Quindi non mi sento soddisfatta Ah si? Steph ho detto chest Perché poi volevo dire Ho trovato anche una chest E voglio trovare qualcosa di bello Invece no Ciao chest Ma è il posto degli shield Ma è il posto degli shield scusami È il posto degli shield Questo È ormai nata in pappa Non capisce più nulla La nostra amichetta Non capisce più nulla È tipo Lo devo dire È tipo la decima volta Che proviamo a registrare questo video Perché non troviamo la nuova granata Quindi sinceramente È l'unica volta Che qualcuno l'ha trovata Non è stato brillante No il fatto è che poi l'ha trovata Eravamo felici E lui sbaglia il tiro Quindi non è servito a niente Trovarla Abbiamo comunque dovuto cancellare il video Quindi capisci Steph Che in questo momento Non sono molto felice Posso però difendere la mia posizione No non puoi Quando trovi un'arma E la puoi provare soltanto così All'improvviso Non sai come la devi lanciare Almeno Steph Vai sul sicuro E diciamo Cerchi di lanciarla Allora Tu ti aspetti di doverla lanciar Che succede? L'ho trovata Ecco Insultami ancora Ecco No non ti insulto più Ti insulterò sempre per quel fail Perché davvero No allora Volevo dire È tutto terribile Steph Tu l'avresti lanciata Come una granata Oppure l'avresti lanciata In modo diverso Un altro shield È un lanciarazzi Steph Ti dicevo Lanciarazzi Bello È come una granata E invece Si lancia come la bomba ballerina Hai mai lanciato una bomba ballerina Sì Hai notato che Sì la prima volta che l'ho lanciata In effetti ho sbagliato Perché pensavo Sei più lunga Invece ti cade molto Esatto La granata Tipo Scivola Che stai a dire Mettiamola così La bomba ballerina Invece si è pianta Come se fosse un ancora Questa roba qua Diciamo una parabolina Molto 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 Questa roba qui Si pianta come Come una bomba ballerina Quindi io non me l'aspettavo Il povero Steph Ha fatto la figuraccia Però non è colpa sua Perché come poteva saperlo Se non l'aveva mai provata Quindi difendiamo Il partito Steph No è sempre colpa tua Dai È sempre colpa tua È finita di lutare tutto Comunque Quasi Se lì abbiamo fatto Ho perduto una miriade di cesto Che l'abbia trovata pure io No 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 Assolutamente Ho altri due shield Di quelli grandi Quindi Bene o male Un'altra stack di shield Pieno Però vabbè Ok ma anche io Quindi ne abbiamo fin troppi Sinceramente Non so neanche Se tenerci di così tanti È l'ultima cesta Da aprire cara Sì la sento Qui in zona Ah guarda ce n'era anche un'altra qui Che Fere non le conosce tutte Quelle più segrete Quindi abbiamo questa Vediamo se ne trovo un'altra C'è spuglio Che bello Non volevo mai trovarlo E poi Non è che l'ho trovato Steph Che equazione Di scudo Mi era illuso Basta Non li prendo più Dai No No Qua c'è le mie sedici verde Ah l'ho già trovato In una cesta Ok perfetto Tutto a posto Possiamo andarcene Sì Quanto siamo dentro la zona Parecchio Allora Fere Io non voglio sprecare questo game Esatto Se capiamo che la situazione drastica Che stiamo per morire Io lancio questa roba Adosso a te a caso E ti faccio volare Ok Aspetta Che succede? Ne ho tre Come nei tre? Prima l'ho trovata da un cadavere E ne aveva una Ma in realtà Quando la luti sono tre E allora è tre tentativi No no ne proviamo una sui te Pronta? Vado? Wow È lontanissimo È un bel salto È un bel salto Steph È un bel salto Allora devi contare Che non va molto in alto Ma in lungo Ok? Quindi bisogna tenere conto Quindi tipo se abbiamo un nemico davanti Tipo se fosse oltre questo container Te la sparo Vai oltre il container E lo spompazzi Esatto Bellissimo Però bisogna infatti Tenere conto Che non vai troppo in alto Perché io mi aspettavo Di andare un po' più in alto Ok Rispetto che in lungo Quindi è importante Bello comunque È bello Allora questo dovrò lasciare l'RPG a te Dato che io devo tenermi stai granate Quando l'RPG è forte Io vorrei l'RPG Vabbè quando finisci Promettimi una cosa Eh Ok Che te lo tieni in un hotbar decente Per poterlo usare Perché è fortissimo Non puoi non usarlo Faire Certo Ma io lo uso sempre Traordinario Ok Mi raccomando Certo che lo uso Ma non lo uso Comunque Siamo ancora dentro la zona Tranquillamente proprio Secondo me il posto delle sedie Non è stato lutato Ok Quindi io dico una cosa Andiamo a vedere se ne troviamo altre Perché sono curioso Di sapere Quante ne puoi avere Perché in questo momento Io ne avevo tre Staccano di più O ne puoi avere in massimo tre Eh interessante Interessante anche questa cosa Bisogna scoprire più Player Dov'è? Qua Qua Pronta con l'RPG? Sì vai Ok È qui Ma ha schivato Steph Spara per terra Vabbè Ma cosa succede al mio fucile? Cioè? Sta sparando in modo strano Oddio 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 Chi mi mitraglia? È un altro player Tira una di quelle granate Oh mio dio Che succede? Non lo so Non lo so Io avevo cose strane Ma che sia successo? Mi hai distratto tu? Perché iniziato Il fucile a pompa Mio classico Stava sparando in modo stranissimo E non capisco come mai Sinceramente non idea Stava sparando in un modo Obbriobrioso Cioè mi hai distratto E mi hai fatto perdere il fight Sinceramente Perché iniziato Ho pensato a fucile E tu che mi urlavi nell'orecchio Non ho capito più nulla Cioè non so che ti sia successo Steph Almeno uccidimeli Ti prego Uccidimeli Perché davvero è vergognoso Certo che te li ammazzo fare Non lo so Dove? 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 Dimmi te che ti si devono buggare i fucili Lo so È stata una cosa terribile Aspetta Che gli hai tirato? Allala È come se la gasse il mio fucile a pompa Ma guarda Lo stai prendendo Non lo so È come se la gava Cioè mi partiva il colpo in ritardo Non lo so Una roba Non è che magari con questo nuovo aggiornamento C'è qualche bug Non lo so Ho trovato più facile sparare con le mie 16 da vicino È una roba totalmente senza senso Comunque Non so se il tipo era scarso Ma dopo che gli ho tirato con la granita Non capiva più nulla C'è fatto caso È impazzito Non se l'aspettava di essere sbalzato Non lo so Sì ma hai iniziato a fare cose strane È stato molto strano come cosa Mi tiro delle bende Mi sento incolpissima Cioè tu sei morta per colpa mia È cavolo no Perché mi hai distratto un botto Lo so Lo so Mi hai iniziato a urlare Non mi funziona Non mi funziona Io che cavolo sta succedendo Io stavo cercando di scappare via Saltando Non riuscivo più neanche a saltare Perché ero nel panico È che cavolo Cioè mi hai iniziato a capire Non lo so Non ci ho più capito nulla Giustamente Non so bene cosa sia successo In più fuori ci sono dei lavori Quindi sento il rumore dei lavori Perché mi urli Non ho sentito più la ceppa del gioco E quindi è andata così Vabbè dai continua Beh certo che continuo Secondo te Esco E poi ho sbagliato Ho fatto anche il ritorno alla lobby Non ti posso guardare Quindi mi devi guardare lo schermo Sei morto anche tutto L'ho detto che non ci ho più capito niente No perché Quindi avete Anche per gli shieldini funziona Per gli shieldini Ci è concentrato Perché deve sparare Poraccio Mi fa sempre pena Quando li prendi così Che sono fermi Ingenui Che non sanno Quello che gli aspetta Allora se loro non mi vedono Lo vedi dov'è lui? Non bene Perché sto cercando di vedere da qui Il tuo schermo Però se zoom Mi riesco a vedere Sì Ok Se pensa Non hanno capito niente Cioè hanno costruito tutto Perché loro sparavano di fronte Quando stai sparando qualcun altro E vieni colpito Non capisci più nulla Perché erano colpiti Infatti fosse dalla direzione opposta Sì Infatti mi stanno aspettando In questo momento entrambi Perché volevano capire un attimino Dove ero Adesso l'hanno capito Mi avranno detto qualche parolaccia Nella loro lingua E saranno tornati a giocare Ce le sei meritate Però è perché erano brutte Ste kill Vabbè però sono da solo Mi sembra giusto fare così Allora Avevano qualcosa di interessante Boh vedi? Uno scar leggendario Ma io ce l'ho già Come ce l'hai già? Già Dove te lo sei tirato fuori? Vedi che abbiamo ammazzato prima Ah bene Mica me l'avevi detto È perché mi sentivo ancora più in colpa Ai 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 I player però che loro sparavano Dove sono? Eh boh Non lo sapremo mai Allora Qualcosa che mi posso prendere Forse mi prendo gli scillini Hanno sparato altri hit Non so bene da dove Dicevo gli scillini al posto delle bende Eh no Ok Anche un po' di materiali ovviamente li prendo sempre Nuova zona Quanto lontano Siamo rimasti in 14 o 4 kill Ok zona abbastanza lontana Ma ce la faccio tranquillamente ad andare Ok Cioè sommando tutto È comunque un bel game Siamo riusciti a provare bene l'item Perché mi hai detto Allora la persona che fa un fight importante Io ti urlo nell'orecchio Vediamo come reagisci E ti urlo Stef non mi funzionano le armi Siamo tutti morti Vediamo come reagisci E poi magari io continuo a giocare Da set Faccio Oh sì Un bel game Però questo Adesso che è morto Stef Sì che è un bel game Ma che stai a dire? Non ho detto adesso che è morta Fere Ho detto semplicemente che alla fine Anche dopo tutti questi problemi È comunque un game piacevole Un game importante E adesso shoppo qualcosa Perché sono triste Non shoppare il nuovo del taplano Bellissimo con l'orsacchiotto Sto pensando di prendere il nuovo del taplano Con l'orsetto È davvero bello Però non mi rendo conto Come potrebbe stare il personaggio Quindi dovrei vedere Secondo me devi scoprirlo in game Non devi scoprirlo Capito in altri modi Con E1 Non so se 1 o 2 Devo continuare a guardarmi intorno Per capire se ce ne sono altri Lì hanno buildato Due team che buildano Uno di fronte all'altro Vabbè spera che litighino tra di loro Così non ti calcolano Mi stavano guardando Sono due Non so se sanno che ci sono Sì secondo me ti hanno visto Come ti sei sporto a vedere gli altri Probabilmente ti hanno visto loro Eh sì Che noia Si fanno la casa anche loro? Vediamo Vabbè quando smetteranno di guardarmi Esatto Pim E mentre sento gente che spara dietro di me Che è una roba incredibile Fere Ovviamente Quanti siete? In 13 Quindi comunque pochi 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 Ok loro stanno continuando ad andare Io penso di lasciarli andare per la loro strada Anche perché loro Immagino che siano più che altro Interessati ad andare dentro la zona Se mi lasciano in pace Va bene Ok stanno guidando lì Ok Però saranno dei vicini un po' fastidiosi Gli altri erano lì Che stanno continuando a spararsi Dalle due fortezze Quella di mattoni e quella di legno E si sparano così E nessuno sta morendo Quindi non fanno nulla No non muoiono però Uh Altro team è arrivato alle spalle Di quelli due Di quei due Uno è a terra L'altro no Intromettiti Cosa? Intromettiti È qua Ok lo vedi a testolina Sì Ok aspetta Adesso lui va a luttare Tutto felice Cavolo ma non lo può proteggere Con la struttura Non è morto Peccato Già Peccato È dovuto sparare in fretta Perché ho paura Che mi mirino dalla sinistra Certo che ti miri È ovvio ovvio Che devi fare tutto in fretta È ovvio Facciamo così dai Vediamo che succede Ecco Ecco Ho fatto bene Ad aver paura Porca miseria Saracca Maledetti Ok facciamo così Mi tiro altri due scillini Il tipo nemmeno è sceso Di collina Per non farsi più dare Siamo rimasti in nove Oh No Speravo di avere un falò 54 di vita Porca miseria Che faccio Vado a cercare quello Non lo so Lo vedi Aspetta Mi ha visto Ti sta mirando Vero No Ok Ho eliminato Ci ha capito Molto bene Quello là Però C'è un tipo Affacciato qui Eh Sì Aspetta Riesci a vederlo Ah no Era un pezzo di legno Ah Porca miseria Vabbè no All'inizio è sembrato Anche un bon player Vero Sembrava un player In ginocchiato Che stava un po' troppo esposto Perché comunque La skin base Ha un po' i colori Della struttura in legno Che ti devo dire Quindi sembrava un po' quello Ok Qualcosa per curarti Niente No però magari questi altri Dai Qualcuno Almeno un medikit Un valvolo Delle bende Niente Siamo rimasti in otto Fere Ok È un bel game È un bel game Ok Ho trovato tutto quello che mi serviva Ok Verace non farti colpire Steph Non farti colpire Otto player Cinque kill Quindi ci sono altre sette persone Speriamo che siano in tanti Ad essere separati Continuo a prendere Ho 31 colpi di missili Benissimo Ok Adesso vado a 75 di vita Con 100 di shield Puoi vincere con tutti quei colpi Puoi dare molto fastidio E questa è una cosa ottima Adesso è importante la posizione Che avrò Più che altro Tutte le armi ricaricate Qua non c'è altro da prendere Forse faccio così Ok Ok Il lancia granate ovviamente Non mi serve più Lì non so se c'è ancora gente Però devo correre di lì Eh fai attenzione Sento sparare Cioè di fronte a me C'è guerra cattiva Ok Infatti è stato trarmortito uno Ma non è ucciso ancora Adesso muore Adesso muore qualcuno Adesso muore qualcuno Del tutto Sì per forza Per forza E rimarremo secondo me Almeno in sei forze di turi in cinque Perché mi sembra una guerra Talmente cattiva Che secondo me ci perdono Player Entrambi i team Soprattutto se arriva Steph A dare un po' di fastidio Eccolo qua Pronto Lì bullano Oh Oh maleducati Sono appena arrivato Con te ce l'hanno Sì maledetti Era appena arrivato Mi era appena unita alla festa Ma che cavolo Stanno continuando a bullare In ferro loro Ok siete in sei Quindi L'hai visto? No Non vedo da così lontano Steph Ti ripeto Cercando di vedere il tuo schermo C'è la fence che lo protegge Non sono sicura di poterlo itare Se si alza Lo massacro Si alza sì ma lì Penso che lo protegga Esatto Io se ti prendo nel collo Vorrei fare one shot Ok non è la testa Invece non lo fai Ma Chi è stato? Da lì sotto Ok Stavano sparando Sì Sì Gente qua Ci sta Ci sta Ci sta Eh vabbè ci sta Dovevano proprio entrare in casa mia Però ci sta Ma Grazie a tutti.